Un grande appuntamento sulle frequenze di Canale 189. Il conto alla rovescia è finito e tutto pronto per l'esordio tarantino della Scirea Cup. La nostra emittente trasmetterà oggi in diretta, a partire dalle 19, la cerimonia inaugurale e la prima partita del torneo tra Roma e Internazionale. Sport, cultura e sinergia rafforzano il sempre più stretto legame con la città di Matera. Taranto accoglie così la ventesima edizione del prestigioso torneo internazionale Gaetano Scirea, riservato agli Under-16 delle realtà più rappresentative del calcio nazionale ed internazionale. Abbiamo ascoltato l'assessore allo sport del comune di Taranto, Francesco Cosa. Sarà una festa nella festa. La partita inaugurale sarà Roma contro l'International Brasile, però la cosa importante è prenderanno parte all'evento tutte le rappresentative. Ci sarà la squadra della Juve che arriverà, quindi sfilerà in campo, ci sarà il Matera, il Catania, il Crotone che di recente è andato in Serie A, piuttosto che il Giappone. Dopo l'esordio di oggi la Coppa Scirea sarà di nuovo in campo a Taranto il 12 giugno alle 20.30. Sotto i riflettori la nazionale della Lega Dilettanti e la FIGICI Basilicata nella sfida valevole per il girone C. Crotone e Porto Alegre si contenderanno invece gli ultimi punti in palio nel girone D il 14 giugno alle 20.30. Ricco il programma collaterale della manifestazione. La rappresentativa under 16 di Taranto sfiderà infatti prima il Giappone il 13 giugno alle 18 e poi la non qualificata del girone D il 15 giugno sempre alle ore 18. Grazie a tutti.